I roll-up sono una delle soluzioni di Layer 2 in grande crescita su Ethereum e sono destinati probabilmente ad essere la soluzione chiave per la scalabilità di Ethereum 2.0. Una delle soluzioni principali infatti data dagli optimistic roll-up. Ma che cos'è un roll-up e come funziona questa tecnologia? Scopriamolo in questo video. Ciao a tutti e bentornati sul canale di web economia.it. Oggi continuiamo con la nostra serie di video dedicati allo scaling di Ethereum. In questa guida cercheremo di capire come funzionano i roll-ups, cercheremo inoltre di capire quali sono le differenze sostanziali tra le due soluzioni tecnologiche principali, cioè l'optimistic roll-up e i ZK roll-ups e faremo un approfondimento specifico sul roll-up di tipo ottimistico. In descrizione vi lascio tutti i riferimenti e i links ai vari siti per approfondire, ma partiamo dalle basi. Prima di vedere come funzionano gli optimistic roll-up vediamo brevemente gli argomenti di questo contenuto. In questo video vedremo dunque quali sono le principali soluzioni di scaling con Layer 2 per Ethereum, che cos'è un roll-up e come funziona da un punto di vista tecnologico, come funzionano gli optimistic roll-up e poi infine vedremo alcuni esempi di optimistic roll-up come Arbitrum e Optimism. Come sappiamo una blockchain moderna deve essere in grado di assicurare la decentralizzazione e sicurezza senza sacrificare la scalabilità. Per questo motivo si rende necessario progettare soluzioni di scaling in grado di aumentare l'efficienza di una rete, mantenendo comunque un livello di sicurezza accettabile. Oggi ci sono reti molto efficienti che vengono impiegate in vari settori dell'economia, come la finanza, i pagamenti, il gaming e le applicazioni future del Web3. Se pensiamo solo al settore dei pagamenti, notiamo come i circuiti tradizionali di pagamento siano in grado di processare migliaia di transazioni per secondo. In questo caso la sicurezza è garantita da una rete centralizzata. Ma come si risolve tutto questo in una rete decentralizzata? Come accennato in precedenza, Ethereum può processare in media 15 transazioni al secondo e ciò costituisce un grosso problema per chi vuole utilizzare la sua blockchain. Ethereum oggi ha un volume di scambi enorme che porta ad alcuni problemi, come il congestionamento della rete e le commissioni elevati, un'esperienza d'uso negativa da parte degli utenti, costretti a pagare costi elevati ed attese prolungate. In questo contesto si rende necessaria una soluzione per migliorare la scalabilità e l'efficienza. Generalmente si può scalare una blockchain tramite due metodi che vedete qui, soluzioni di scaling layer 1 e quindi si modifica la chain stessa, oppure soluzioni di layer 2, cioè con uno scaling off-chain che non modifica la blockchain principale. Se non l'avete ancora fatto vi invito a vedere il video che abbiamo realizzato qualche settimana fa sui layer e che spiega come funzionano i livelli e perché sono importanti per una blockchain. L'obiettivo principale della scalabilità è quello di incrementare la velocità delle transazioni e il throughput delle transazioni e TPS, cioè senza sacrificare decentralizzazione e sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo Ethereum utilizza i layer 2, ovvero protocolli costruiti sulla blockchain esistente di layer 1 con un livello superiore per migliorare la velocità e dunque raggiungere la scalabilità. Un layer 2 viene costruito sulla blockchain esistente e rappresenta una soluzione di scaling di tipo off-chain, ovvero opera fuori dalla chain principale. Esso consente di eseguire una serie di operazioni e transazioni indipendentemente dal livello 1. Non è quindi necessario modificare la chain principale, ma si aggiunge semplicemente uno strato aggiuntivo al quale vengono delegate molte operazioni. Le soluzioni di scaling layer 2 per Ethereum sono le seguenti, sidechain, un classico esempio è Polygon che sfrutta una chain parallela, le plasma chain, soluzioni che consentono di prevenire attacchi di cui soffrono le sidechain sfruttando delle sottocatene, i rollups di cui stiamo parlando in questo video con soluzioni come ZK Rollups e Optimistic Rollup, state channels in cui due parti creano un canale di comunicazione firmando le rispettive transazioni e bloccando i fondi. È un meccanismo utilizzato nei pagamenti e nel gaming. Per approfondimenti sullo scaling di Ethereum potete consultare un video che vi lascio qui sopra ed in descrizione che vi spiega quali sono le soluzioni di scalabilità principali utilizzate per questa blockchain. Ma veniamo all'argomento del video e cerchiamo di capire come funziona un rollup. Un rollup è essenzialmente una tecnologia layer 2 che consente di migliorare la scalabilità di una rete. I rollup consentono dunque esecuzioni di transazioni al di fuori del layer 1. Col termine rollup si indica una tecnologia in grado di impacchettare o arrotolare, cioè quello che significa rollup in inglese, più transazioni in un'unica transazione per essere processate insieme. A secondo del modo in cui i dati vengono poi ancorati alla blockchain layer 1 di Ethereum possiamo parlare di Optimistic Rollup e ZK Rollup. I rollup eseguono l'esecuzione delle transazioni al di fuori del livello 1 e poi i dati vengono inviati al layer 1 dove viene raggiunto il consenso. Possiamo avere quindi una tecnologia diversa a seconda dei meccanismi utilizzati per inviare i dati alla blockchain di Ethereum. In particolare dividiamo i rollup in due. Gli Optimistic Rollup, cioè un modello che presuppone transazioni valide a priori. Se un validatore ritiene che un potenziale blocco sia non valido si torna indietro e si analizza nello specifico fino a trovare l'errore. La sicurezza viene dunque offerta grazie alla possibilità di eseguire prove su potenziali errore nel caso in cui si sospetti una transazione non valida. Gli ZK Rollup invece sono dei rollup detti a conoscenza zero, ZK sta infatti per zero knowledge, e presuppone invece che i calcoli vengano eseguiti off-chain e successivamente venga inviata una prova di validità alla chain, cioè utilizzare prove di validità al di fuori della chain principale, comprimendo le transazioni prima di inviare la prova definitiva alla blockchain di Ethereum. Da qui il termine a conoscenza zero. Gli ZK Rollup sono più efficienti in quanto hanno bisogno solo delle prove di validità invece di tutti i dati delle transazioni, come invece richiedono quelli di tipo ottimistico. Un optimistic rollup è quindi un protocollo layer 2 che presuppone che le transazioni siano valide a priori e mira ad estendere la velocità della rete Ethereum. Questo tipo di rollup opera al di fuori della chain principale elaborando le transazioni in un unico pacchetto per poi pubblicare il risultato con un'unica transazione attraverso un ancoraggio al layer 1 della blockchain. In questo modo la rete di Ethereum viene sfruttata solo per la sicurezza e la verifica di eventuali frodi. Un rollup di questo tipo può migliorare fino a 100 volte la scalabilità. Ma come funziona un optimistic rollup? Gli optimistic rollup eseguono come abbiamo detto una serie di transazioni in batch al di fuori della catena principale di Ethereum, inviando poi il risultato al layer 1. Grazie a questo meccanismo si riducono le commissioni gas fees per l'utente finale, in quanto queste vengono spalmate su più transazioni. I dati vengono poi ulteriormente compressi prima di essere inviati ad Ethereum. Un rollup di questo tipo è definito ottimistico proprio perché presuppone che le transazioni elaborate off-chain siano valide. Per questo motivo non inviano alcuna prova di validità alla chain di layer 1, al contrario dei ZK rollups che invece inviano tutte le prove criptografiche. Il funzionamento base di un optimistic rollup lo vediamo in questo schema. In caso di transazione sospetta o fraudolenta entra in gioco un sistema per risolvere la disputa e capire qual è lo stato giusto da ripristinare e quindi quali transazioni non sono state calcolate correttamente. Dopo che un batch di transazioni viene inviata ad Ethereum c'è una finestra temporale detta Challenge Period in cui qualunque nodo può inviare una fraud proof, cioè la prova che la transazione è fraudolenta, contestando la validità della stessa. Il sistema quindi ricercherà nelle transazioni il motivo della controversia e deciderà come risolverla. Questo processo di esecuzione della transazione e il ripristino dello stato richiede dei calcoli eseguiti off-chain per evitare consumo di gas fees eccessive della parte probabilmente più complessa di un rollup. Se la fraud proof ha successo, la transazione viene rieseguita dal protocollo di rollup che si occupa di ripristinare il corretto stato precedente. Una volta dimostrato che è una transazione fraudolenta, il nodo responsabile della transazione errata riceve una penalità. A questo punto, se tutto è stato eseguito correttamente e le transazioni sono valide, terminato questo tempo di attesa, il blocco è valido e può essere aggiunto sulla chain principale di Ethereum, quindi Layer 1. Questo a grandi linee sintetizza il funzionamento di un rollup di tipo ottimistico. Andiamo a vedere ora nel dettaglio invece, da un punto di vista tecnologico, come viene gestita questa architettura. Da un punto di vista tecnico, gli optimistic rollup vengono gestiti da un'architettura fatta da smart contract, cioè una serie di contratti intelligenti su Ethereum memorizzano i blocchi del rollup e tengono traccia dello stato. E poi da una virtual machine o VM che si occupa dell'esecuzione dei calcoli e dell'archiviazione dello stato off-chain fuori dalla chain principale. Si tratta di un meccanismo che consente di fungere da livello 2 per gli optimistic rollup. Viene chiamata anche optimistic virtual machine, oltre a off-chain virtual machine, comunque separata dalla EVM di Ethereum. Gli optimistic rollup, insomma, sono perfettamente compatibili col mondo EVM, al contrario degli ZK rollups che vedremo in un altro video. Pur eseguendo calcoli off-chain, cioè fuori da Ethereum, ne sfruttano la sicurezza e pertanto possono essere considerati come una soluzione ibrida. In questo senso è fondamentale avere accesso ai dati e agli aggiornamenti di stato su Ethereum. Grazie alla pubblicazione degli aggiornamenti di stato, in caso in cui un nodo vada offline, un altro nodo può continuare a produrre blocchi ripristinando lo stato precedentemente memorizzato da un altro nodo. Gli utenti possono inoltre utilizzare i dati delle transazioni per dimostrare la proprietà dei loro fondi e ritirarli dal rollup. Ma come funzionano le transazioni su un rollup? E soprattutto, come fa un optimistic rollup a tenere traccia dello stato e a controllare che le transazioni siano corrette. Gli utenti inviano le transazioni ai nodi validatori che si occupano di elaborare ed aggregare i dati in un rollup per poi inviarlo in batch su Ethereum. Nel caso in cui lo stato finale sia diverso da quello proposto, entra in gioco il sistema disputa di cui abbiamo parlato prima. In questo schema vediamo come avviene il tutto. Abbiamo in pratica uno smart contract, detto rollup contract sulla chain, che mantiene lo stato dei rollup in cui sono memorizzati varie informazioni come l'indirizzo dello smart contract, i saldi ed altre informazioni. Più questa informazione fondamentale che vedete qui, che è lo state root. Lo stato degli optimistic rollup viene organizzato a livello logico come un albero, il famoso Merkel tree che è chiamato albero degli stati. Alla radice dell'albero, nella root, abbiamo un hash che fa riferimento all'ultimo stato del rollup. Ogni transazione di stato produce un calcolo è dunque il nuovo stato del rollup su cui verrà calcolata una nuova root. Per chi non lo sapesse, il Merkel tree rappresenta una struttura dati utilizzata in varie applicazioni in informatica, anche da bitcoin, e viene utilizzata per verificare l'integrità dei dati in un insieme. Viene usata ad esempio quando facciamo il download di un file da un network peer-to-peer. Queste informazioni non vengono memorizzate sulla chain principale, ma possono essere ricalcolate dai dati off-chain. Nel contesto di una blockchain i Merkel tree vengono usati nelle intestazioni di blocco per la verifica degli hash e per altre funzioni. Se non sapete cos'è un hash criptografico, vi invito a consultare un video sul nostro canale che spiega il funzionamento della blockchain e cosa sono gli hash e le funzioni criptografiche. Come vedete nello schema d'albero, le transazioni vengono compresse e impacchettate in un insieme di transazioni insieme allo stato attuale, codificato tramite funzione hash dopo l'elaborazione delle transazioni, e allo stato precedente. Merkel tree precedente indicato dal pre-state root. Notiamo infatti che nel Merkel tree abbiamo la suddivisione delle transazioni nelle foglie dell'albero. Quindi l'algoritmo che si occupa della convalida della verifica dell'integrità dei dati non è tenuto a conoscere tutti i singoli nodi di quest'albero. Lo smart contract, cioè il roll-up contract, a questo punto controlla che lo stato precedente del batch corrisponda alla radice del Merkel tree attuale. Se la verifica è positiva, passa al nuovo stato e così via. Questo è tenuto a tenere traccia del vecchio stato e del nuovo nel momento in cui invia gli L1 batch ad itirio. Se la vecchia root del Merkel tree corrisponde alla root dello stato attuale, questa viene sostituita con la nuova radice, con lo stato aggiornato. Quest'operazione si chiama State Commitment e si rende necessaria in quanto qualunque nodo può includere una transazione nel batch di transazioni su layer 1, presentando una Merkel proof. Uno State Commitment di fatto consente di dimostrare che i cambiamenti di stato nel roll-up sono corretti. Lo smart contract di roll-up accetta le nuove radici di stato subito dopo che sono state pubblicate, ma può cancellarle ritornando indietro, se non sono valide, per riportare il roll-up allo stato corretto. Ovviamente, se un operatore potesse inviare un batch di transazioni con qualsiasi stato successivo senza alcun controllo, potrebbe di fatto trasferire tutti i fondi all'interno del roll-up a se stesso. Per evitare questo ci sono soluzioni di verifica dei roll-up e gli ottimisti roll-up utilizzano la fraud-proof, un meccanismo che vediamo adesso. Negli ottimisti roll-up si utilizza un meccanismo chiamato fraud-proof, questo perché chiunque può pubblicare blocchi senza fornire prove di validità, appunto in modo ottimistico. Quindi chiunque può inviare transazioni fraudolente e rimanere impunito? No, perché chiunque vuole produrre un blocco deve fornire un bond, cioè degli ETH da vincolare prima un sistema simile a una proof of stake, se vogliamo. Dunque può essere punito con lo slashing, se si comporta male. Analogamente, anche chi fornisce una fraud-proof che non è vera può subire lo slashing, in quanto deve impegnare dei fondi con un bond o cauzione. In questo modo gli optimistic roll-up garantiscono che i nodi validatori si comportino in maniera trasparente ed onesta. Lo smart contract di roll-up è in grado di memorizzare l'intera storia delle radici di stato e il codice hash di ogni batch. In questo modo, se qualche nodo ritiene che un batch abbia uno stato errato, può pubblicare una fraud-proof per dimostrare che il batch è stato calcolato in modo errato. Questo può avvenire in un tempo detto challenge period specifico. A questo punto lo smart contract di roll-up verifica che sia vero e annulla il batch e tutti quelli successivi ripristinando lo stato corretto. Per farlo, il protocollo di roll-up si occupa di rieseguire la transazione contestata sul layer 1 di Ethereum, determinando tramite la root di stato calcolata chi ha ragione. Il nodo che perde la disputa viene così penalizzato con lo slashing dei suoi bond impegnati. Ipoteticamente basterebbe un solo nodo per far funzionare l'intero sistema, in quanto entrando in disputa con nodi fraudolenti risulterebbe sempre vincente e la validità della catena sarebbe garantita. Questo meccanismo di riesecuzione delle transazioni sul layer 1 è inefficiente e richiede dei costi in gas fee. Inoltre si basa sul concetto che se qualcuno pubblica un batch non corretto ci sono altri nodi che seguono la catena di roll-up e rilevano la frode, dimostrando che il batch deve essere annullato. Grazie a questa struttura dei dati Merkle Tree utilizzata è possibile, come abbiamo visto, calcolare lo stato e la radice. Questo assicura che se un batch viene calcolato in modo errato è possibile sempre dimostrarlo con una fraud proof. Viceversa, se un elenco di transazione è corretto, non c'è modo di creare una prova che invece dimostri che non sia valido. Si parla in questo caso di un sistema di validatori permissionless che può contribuire alla validazione dei blocchi in modo autonomo. Alcuni optimistic roll-up invece utilizzano un sequencer, ovvero un sistema che elabora le transazioni in sequenza e produce una catena di roll-up da inviare poi allo smart contract on-chain. In questo caso le transazioni vengono accodate finché il sequencer non lo introduce in un nuovo batch. Riepilogando possiamo vedere l'esecuzione di transazioni in un optimistic roll-up come scandita da più fasi, un invio delle transazioni da parte degli utenti, l'impacchettamento delle transazioni in un batch da inviare al layer 1 su Ethereum, l'invio di eventuali fraud-proof da parte dei nodi in una finestra temporale di contestazione, la riesecuzione dei batch su L1 per risolvere eventuali dispute e la penalità per i nodi che perdono le dispute. Una transazione su Ethereum richiede circa 110 byte come spazio occupato per il trasferimento. Trasferire invece un ETH su un roll-up come può essere una soluzione di tipo ottimistico richiede circa 12 byte, quindi quasi un decimo dello spazio. Gli optimistic roll-up utilizzano soluzioni per comprimere il batch delle transazioni. Una compressione molto netta si ha sulle firme, sulle signature, che fa risparmiare molto spazio attraverso l'aggregazione di più firme in un'unica. La compressione dei dati è fondamentale per rendere scalabile il roll-up, senza questi probabilmente si avrebbe un miglioramento ma non così netto come quello assicurato dal fatto di poter comprimere tutti i transaction data. Cerchiamo allora dopo questa panoramica sulle caratteristiche tecniche di riepilogare quali sono i vantaggi di utilizzare un optimistic roll-up per scalare su Ethereum. Tra i vantaggi, ricordiamo un miglioramento delle prestazioni senza sacrificare la sicurezza, la disponibilità dei dati sul layer 1 per migliorare la trasparenza, il meccanismo di dispute e fraud-proof che assicura una continuità della chain grazie a nodi onesti, la compressione dei dati, la compatibilità con l'Ethereum Virtual Machine, con gli smart contract scritti in Solidity che possono essere eseguiti anche sui roll-up. Tra gli svantaggi ricordiamo invece i ritardi nella finalizzazione delle transazioni nei prelievi a causa dei potenziali casi di frode, l'utilizzo dei sequencer che può influenzare l'ordine delle transazioni, il fatto che se tutti i nodi sono disonesti, pubblicando degli state commitment fraudolenti si possono rubare potenzialmente dei fondi. I fondi di Ethereum possono essere poi prelevati dopo circa una settimana dalla fine di una disputa. I dati del roll-up vengono poi pubblicati on-chain e questo può influire sui costi. Inoltre, l'esecuzione dei batch su Layer 1 richiede molte risorse e causa delle inefficienze. Vediamo allora qualche esempio di Layer 2 di tipo ottimistic. Abbiamo ad esempio Arbitrum e questo è il sito dove potete trovare tutte le informazioni. Arbitrum è una soluzione di scaling che memorizza un riepilogo delle transazioni su Ethereum e basato sulla Proud Proof. Nella sezione Learn possiamo leggere tutta la documentazione ufficiale del progetto, ad esempio come si compone la transazione, come funzionano le Proud Proof, le informazioni sulle gas fees e così via. Su portal.arbitrum1 abbiamo poi tutte le applicazioni dell'ecosistema, come vedete sono tantissime. Abbiamo poi la sezione Bridge che ci consente di connettere il nostro wallet Metamask per trasferire i fondi sulla chain Layer 2 di Arbitrum. Vi segnalo inoltre un articolo interessante su DeFi Pulse che vi fa capire qual è l'architettura base del roll-up di Arbitrum, che è poi simile al funzionamento che vi ho spiegato prima con qualche aggiunta. In Arbitrum infatti la fase di esecuzione è gestita in modo separato dalla fase della convalida, come vedete in questo schema. L'esecuzione cioè viene eseguita in un ambiente locale per velocizzare tutto il processo. In caso di errore o transazione sospetta la fase di convalida avviene al di fuori della catena con Arbitrum che ricercherà nelle transazioni il motivo della controversia e deciderà quindi come risolvere. Questo processo richiede ovviamente calcoli eseguiti e consumo di gas fees. La risoluzione del problema su una transazione non valida viene invece poi risolta sulla chain. Per mettere in comunicazione Ethereum con Arbitrum abbiamo visto si utilizza il bridge e la validazione avviene su Layer 1. Come tutte le blockchain abbiamo poi un explorer, vi faccio vedere qual è l'explorer di Arbitrum che trovate all'indirizzo arbiscan.io e come osserviamo ci sono sotto l'elenco dei blocchi prodotti e delle transazioni proprio come avviene sugli altri explorer. Qui potete vedere però una sezione diversa latest L1 batch cioè vi fa vedere tutti i batch inviati a Layer 1. Se andiamo nella sessione degli ultimi batch e clicchiamo su un batch ad esempio possiamo vedere quindi tutte le informazioni su quel batch e vedete che dentro ci sono migliaia di transazioni e poi ci sono altre informazioni come la dimensione e l'hash. Quindi se clicco sulle transazioni avremo tutto l'elenco delle transazioni presente in quel batch L1. Magari faremo un approfondimento su Arbitrum in cui vedremo in pratica tutti i passaggi. Non ve lo faccio vedere ora altrimenti il video diventa lunghissimo. Fatemi sapere se vi interessa un approfondimento nel caso nei commenti. Optimism è l'altro esempio di Optimistic Rollup e quindi di soluzioni di scaling per Ethereum. Qui potete vedere tutto il sito con le informazioni sulla governance, il bridge, la documentazione del progetto e tutto il resto. Nella sezione ecosystem possiamo vedere l'elenco dei vari applicazioni che supportano Optimism e sono davvero tante. Nella sezione della documentazione su Optimism organizzata in maniera veramente semplice possiamo trovare varie sezioni che spiegano come avviene la produzione di blocchi in questa chain, come funziona il protocollo Rollup e tutto il resto. Se vi interessa potete consultare la documentazione che vi spiega come funziona Optimism, come funziona la produzione dei blocchi, l'algoritmo di Rollup e così via. Rispetto ad Arbitrum qui abbiamo la fase di esecuzione che avviene invece in contemporanea a quella di Convalida. Anche in questo caso le transazioni vengono impacchettate nel Rollup e inviate in blocco a Layer 1. Durante una transazione Optimism continua a comunicare con Ethereum sfruttando nella sicurezza la decentralizzazione, mentre Layer 2 si occuperà della scalabilità. Quindi si ottiene una scalabilità di circa 100 volte superiore. Costi ridotti, infatti Optimism costa molto meno in quanto i Rollup impacchettando le transazioni consentono di ridurre il costo per singola transazione. Sfrutta comunque la sicurezza del Layer 1 e gli utenti possono sfruttare Optimism pagando meno commissioni ed operando in un ambiente sicuramente più confortevole. In questo articolo che vi lascio in descrizione viene sintetizzata l'architettura di base di Optimism. Le transazioni vengono così processate in questo caso rispetto ad Arbitrum, come vedete qui, da un sequencer, cioè che si occupa di alleggerire le operazioni su Ethereum. Anche in questo caso come per Arbitrum possiamo controllare l'explorer in cui troviamo gli ultimi batch sia delle transazioni che dello stato. Cliccando su un batch ad esempio troveremo varie informazioni come il timestamp, il batch size, l'hash della transazione e così via. In particolare se clicchiamo su L1 Transaction Ash vediamo che il sistema ci riporta all'explorer di Ethereum e come vedete qui da FromTo capiamo esattamente che si tratta di una transazione di Optimism. Nella sezione About possiamo vedere la roadmap di Optimism che spiega dove ci troviamo ora e lo sviluppo che prevede addirittura gli sharded roll up e il sequencer che opererà in maniera decentralizzata. Anche in questo caso farò un approfondimento ulteriore dove vedremo dal punto di vista pratico come funziona Optimism. Bene siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo video come funzionano gli Optimistic Roll Up, il loro funzionamento e qualche esempio. Nei commenti vi lascio tutti i riferimenti ai links dei vari exchange per comprare criptovalute e vari approfondimenti. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci, a mettere mi piace, attivare le notifiche per rimanere aggiornati e a lasciarci naturalmente i vostri commenti. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.